Cari quaddisti, poco prima del podio ecco questo cagnolone, vediamo il proprietario del cagnolone, lo usa per intimidare gli avversari, Christian Pinoli. Ci vuole, ci vuole. Punteggio pieno, 8 manche di cui X4, 8 volte al primo posto Christian Pinoli del Team Galizzi. Qual è il trucco Christian? Il trucco è la manetta, come sempre, la manetta è la manetta, anche se la pista oggi era abbastanza tosta. Ti abbiamo visto in gara 1 faticare un po', ti abbiamo visto invece in gara 2 involarsi e imporre il tuo dominio. In gara 1 sono partito male, male, ero indietro, ero quinto, sesto, poi ho ripreso, ce l'ho fatta ancora arrivare primo. In gara 2 sono partito meglio, sono partito secondo, sono passato su Rondinini, poi sono andato a lavorare. Abbiamo visto che hai trainato il Magnos, che ti aveva visto volare via, veramente è dato il tutto per tutto, avete fatto una gara spettacolare. Bella, bella, no no no, niente da dire, è andato tutto bene, tutto buono. Christian, ti lasciamo al podio che ti sei meritato come dominatore della Queen's 4, i nostri complimenti e un arrivederci alle prossime prove dell'Italiano. Di sicuro. Grande campione. Sempre così, grazie mille. Ciao.